Anche Corato e Rutigliano hanno dovuto aspettare il secondo turno, quello del ballottaggio, per eleggere il loro primo cittadino. A Corato sfida tra destra e centro, ma alla fine si impone Pasquale di introno di centrodestra con il 57,10% delle preferenze, oltre 2000 voti in più rispetto al suo sfidante Claudio Amorese. Sin dalle prime schede scrutinate era apparsa chiara la tendenza espressa in questa seconda tornata a Corato. Dintrono era apparso subito in vantaggio rispetto al suo sfidante. E si chiude così con l'elezione a sindaco di Pasquale dintrono la competizione a nove che si era presentata a Corato. I sette candidati esclusi al primo turno, quello del 26 maggio scorso, hanno preferito non dare indicazioni di voto ai propri elettori. In queste due settimane, infatti, non è stato dichiarato nessun apparentamento tra le varie correzioni. Il nuovo sindaco, Pasquale dintrono, è stato sostenuto da Direzione Italia, Fratelli d'Italia e DEA, una lista civica. Commentando a caldo la sua vittoria, Dintrono ha dichiarato che darà degnità a una città che da sempre ha avuto un ruolo fondamentale in tutto il circondario. A Rutigliano, invece, è tutto un'altra musica. Dopo 20 anni di governo di centrodestra, torna alla sinistra con Giuseppe Valenzano, del PD. Con il 61,8%, Giuseppe Valenzano, di 39 anni, è il nuovo sindaco che ha superato di gran lunga il suo sfidante, Giuseppe Roccopoli, che rispetto a due settimane fa ha perso circa 4 punti in più di consenso. Nel complesso, a Rutigliano, si è registrato un calo d'affluenza dei votanti 59,44% contro il 73,75% del primo turno. Nel complesso, in Puglia, avanza silenziosa la sinistra. Foggia è l'unico capoluogo pugliese in cui non governerà il centrosinistra dopo le ultime elezioni.